L'amministratore delegato di Rieco Berardocco, finalmente possiamo dire la raccolta differenziata, quella giusta, quella fatta, seriamente entra a far parte anche delle sagre per sensibilizzare anche i turisti. Sì, i turisti che di solito quando vanno alle sagre giustamente si dimenticano la pratica giornaliera, perché poi la conoscono, diciamo che è un'abitudine. Noi siamo contenti di questa iniziativa anche perché, come dicevo prima, il Comune di Colle Corvino ci dà quest'occasione di mettere a disposizione queste posate, stoviglie biodegradabili e quindi iniziamo il percorso virtuoso di Plastic Free, di seguire quello che prevede la normativa europea su questo argomento. Siamo contenti di contribuire a favore del Comune di Colle Corvino con questa iniziativa e parteciperemo a tutte quelle che ci metteranno in condizione di dimostrare la nostra attenzione all'ambiente. Raccogliamo le tradizioni nella sagra, le tradizioni dei piatti contadini. Infatti in quest'epoca dove si va dallo street food, al fast food, allo slow food, siamo arrivati al farm food che sarebbe il piatto del contadino e noi ci proponiamo nel nostro menù di riproporre pipindune ovo, oltre al piatto principe abbiamo anche pallotte cacee ovo, abbiamo il ciabotto che è un'aggregazione di ortaggi cotti tutti insieme. Quindi niente, ci riproponiamo le tradizioni dei nostri avi.